Mi riceve il dottore, a Giovanni, e che c'è di fare qua? Eeeh, mi son rotto il piede, ah, hai fatto gli esami del sangue? Sì, ho fatto gli esami del sangue, ho portato tutto quello che avevo. Allora, fammelo vedere. Iii, il CPK ha 5.500, giovane. E che sei matto? Dovevo guardare bene, eh? Cosa? Che cazzo è questo CPK? Eh no, aspettamolo, guardamolo, c'avevamo le procedure, piano piano, perché qua c'avevamo le procedure. Andiamo su Google, ecco qua, CPK, ecco qua, questa ha avuto, questa è il 1.200, non è il 5.500. Aspetta, chiamo un collega, collega, ho qua un paziente, c'è il CPK a 5.500. No, 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 quello è il 1.200, il CPK ha avuto, no? Ah, non lo sai manco te che cazzo? No, vabbè, vabbè, tutto apposto, amo risolto. Che cosa? Non servono gli esami del sangue per piedi rotto, devi fare l'ecografia. Vabbè, ma il CPK? Eh no, quello poi passa, non ti preoccupi.